Ci fu un momento in cui si cercò di fare l'impossibile pur di portarlo a casa? Beh, là ci furono tentativi. Il giorno in cui poi Moro venne ritrovato, morto, assassinato, si doveva, se non mi sbaglio, venire al Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. C'era una tensione, era possibile che uscisse fuori qualcosa di diverso. Alcuni collegano a questo crescere della tensione nel paese la decisione delle Brigate Rosse di chiudere la partita.